Siamo salutati ed abbracciati certamente, è un vecchio amico, è l'amministratore delegato del Manchester City quindi la tradattiva è stata condotta da parte mia per quanto riguarda Milan e da Ferran Soriano per quanto riguarda Manchester City certamente Un gran bell'affare per il Milan, insomma sette volte sei partite Ma no, ma gli affari sono così, decidete voi insomma Dottor Gagliani avete annunciato che giocherete Milan-Sion a San Siro per questione organizzative Sì, sì, l'abbiamo deciso questa mattina, adesso lo annunceremo ufficialmente ma visto che c'è molto interesse, ci sono televisioni che trasmettono la partita in diretta abbiamo capito che probabilmente Vismara non era il teatro giusto per questa partita e quindi lo faremo a San Siro Altrettanto importante la conferma di Allegra, addirittura con la fiamma ossidrica al Milan lo vuol tenere? No, no, assolutamente, avete parlato voi di Bulloni e quindi ho detto con la fiamma ossidrica Però la domenica lui è stato per la prima volta un po' No, ma sono sempre le stesse domande, arrivederci, ciao direttore